Italia 1945 Un profondo senso di rinascita anima il paese Caffè, osterie, bar, balere, trattorie Luoghi di un'Italia che cerca di tornare lentamente alla normalità La nostra storia comincia così Il 16 giugno 1945 Quando a Roma viene costituita FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi Nata per dar voce agli imprenditori del turismo Della ristorazione e dell'intrattenimento Eravamo in pochi allora E oggi siamo più di 300.000 aziende E un milione di persone E in 70 anni ne abbiamo viste tante 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 E in 80 anni ne abbiamo viste tante E in 70 anni ne abbiamo viste tante Grazie a tutti